Rossanese avvalanga sulla promosport. Nel match disputatosi ieri pomeriggio sul neutro di Mirto Crosia è valido per l'anticipo della decima giornata del campionato di promozione Girone A. La squadra di Mr. Aloisi travolge con un netto 5-0 i lamettini di Mr. Gabriele, confermando la propria forza. Uomo partita Riolo, autore di una splendida tripletta e protagonista assoluto del match. Suoi i primi due gol al decimo al ventitresimo che segnano la gara già nella prima frazione, di fatto chiusa prima del riposo dal terzo centro di Ferraro. Riplesa di pura accademia per la rossanese, Cristaldi trova subito il poker, mentre all'ottantottesimo sempre Riolo firma il tris, portandosi a casa il palone della partita e permettendo alla sua squadra di salire a quota 26 punti in classifica.